ciao a tutti molti mi stanno chiedendo cosa è successo in Ucraina nelle ultime ore niente c'è stato ci sono stati dei grossi attacchi ieri più di 100 missili in centinaia di droni oggi altri 60 droni e quindi siamo senza luce ieri eravamo anche senza acqua c'è ci sono i turni e come vedete ci sono i generatori questo rumore sono i generatori per permettere alla gente di lavorare quindi generatori a diesel elettrici niente non va benissimo soprattutto perché ci sono interruzioni nelle case quindi tante persone anziane che non possono uscire perché qui ci sono palazzoni di 16, 20, 25 piani quindi è impossibile per tutti uscire quindi le ultime due notti sono state movimentate ecco speriamo che la cosa migliora però le esplosioni si sono sentite le ultime due notti allora stiamo appena da presto ciao ciao